15-0 scorsi, è vero per il futbolismo, è vero per l'immagine del futbolismo. Scusate, ma la FIFA era vera. FIFA era vera. Come succede molto in ultimi anni, la FIFA era vera, una volta più. Con aumentare il numero di team, abbiamo avuto 8 debittanti. 8 debittanti. Abbiamo avuto molti paesi all'interno del mondo che vedono, subito, che hanno una possibilità di partecipare. E da 134 paesi che hanno entrato la qualificazione per la 2015 World Cup, prima che si tornarono il FIFA Presidente, abbiamo adesso 188 paesi nel FIFA ranking. Perché tutti credono ora che c'è una possibilità di brillare sulla stagione globale. Durante questa World Cup, qui in Oceania, ho avuto il grande piacere di visitare l'Oceano 11. Grazie.